E' partita, i metri tornano ad essere 500, Elisa Granato leva di Andrea Vantigazza, prende molto bene lo sparo, Alessia Crespi in seconda posizione, no, Granato, Crespi, Borrello nell'ordine, ha passato la campana, i metri sono tornati ad essere 500. Elisa Granato e Alessia Crespi hanno peruna l'idea, ho vantato su Matilde Meroni che è il corso di un po' di gioco, passa Alessia, Alessia Crespi, va al comando, ingrozza tutta la curva, ha più il tempo che sarà, il suo sarà il primo di riservimento della categoria, Alessia Crespi chiude con 54 e 54. E' una partenza valida, Giulia Marelli che prende il comando con Matilde Napolitano in seconda posizione, Marelli in buona condizione quest'anno. E allunga molto bene sul rettilineo, posto quello che avevo, che è il tempo della figlia d'arte che va a impugnare in questo momento il rettilineo finale. Giulia, Giulia, adesso suona la campana per lei, ha una quindicina di metri di vantaggio sulla trepa di casa. Mattilde Napolitano che adesso è incalzata da Giorda Stetco. Siamo al rettilineo finale per Giulia. Tempo di Giulia, 53 e 15 che è il mio tempo fino a questo momento. 53 e 15. Partita la terza batteria con Agnese Dominoni. Agnese Dominoni e Cora Gualtieri, praticamente insieme con Cecilia Conca in terza posizione. Agnese Dominoni e Cora con Cecilia in terza posizione. Agnese Dominoni rimane davanti e quando suona la campana con Agnese Dominoni. Cora Gualtieri, Cecilia Conca leggermente staccata. Distendono molto bene le due parti di strada in questo rettilineo opposto a quello di arrivo. Adesso sono già praticamente su quello di arrivo con Agnese Dominoni e Cora Gualtieri. e arrivano insieme Agnese 53 e 02. 53 e 02 che è il miglior tempo fino a questo momento. Praticamente la partenza è valida con Sara Passero che parte fortissimo. e Sara Ferri in seconda posizione e Sara Passero una delle atleti da tenere il sott'occhio a livello nazionale, l'atleta della polisportiva di Bellusco che adesso va a prendere la campana. Passero poi Ferri, poi Sicchine. Ancora un leggero vantaggio con Sara Passero che cerca di allungare il più possibile. E adesso Sara Ferri si avvicina pericolosamente. Siamo al traguardo finale con Sara Passero e Sara Ferri. Praticamente insieme 52 e 12, meglio tempo 52 e 12. partenza valida con Codibue, Mazzara, Tannicando, Nicorelli e Allegra Mede, Eleonora Codibue e poi Elisa Mazzara e poi Ciavo Nicorelli. Adesso si mette in terza posizione Elisa Viscardi ma è sempre davanti. E Eleonora Codibue. Una campana con lei, Codibue, poi Mazzara. Adesso è tornata. Luscavo è in seconda posizione ma è un tempo di Eleonora Codibue che ha fatto un gran vantaggio su tutte le altre. E sono relativamente vicine fra di loro. E Eleonora Codibue. Tempo 54 e 51. Simpatità la batteria con Nina Corradini davanti. Adesso in seconda posizione Longaretti. Corradini poi dai Longaretti poi dai Nezzanetti. 52 e 12. Ne sa, Passero resiste a un gran tempo. Passero e Gualtieri praticamente insieme. Intanto suona la campana. Suona la campana per Nina Corradini. Naia Longaretti in seconda posizione. Adesso siamo in questione tale, poi M2 per il miglior tempo di questa batteria. Passero al turno successivo solo i migliori. Sei tempi. Arrivano insieme Longaretti e all'interno si toccano un po' pericoloso. Stacola 54 e 17. Un po' pericoloso è un po' inutile. 54 e 17. Il tempo di Corradini e Longaretti. Ma tempo valida. Gona Pagliari, Cazzanica, Caltanti, Cazzaldini, Viagioni e... Ma ragazzi, infatti, ma è inutile l'incitoice della prova della gara a punti oggi. Campionese italiana, eh, campionese italiana di mezzo maratona. Super star della categoria. Preso un gran vantaggio. Già in questo primo giro. Suona la campana dietro. Sì, lotta per la seconda posizione. Attenzione. Caduta a Chiava Castaldini. Il palo è morbido, ma la benessera è alta. Adesso... Tanto la gara... Adesso chiamiamo i sanitari. Adesso chiamiamo i sanitari. Arriva... Maina intanto. Arriva Maina con il tempo di 51.09 che è il migliore. Arrivano anche le altre. 51.09 Maina. Intanto i sanitari...